Nonostante la loro lunga storia d'amore, quella che ha fatto sognare tutti gli italiani, sia finita ormai da tempo, l'attenzione del pubblico è sempre molto alta sulle vicende legate alla ex coppia di Cellino San Marco. Il cantante Albano torna a parlare di Romina Power e Gela Tutti. Cosa ha detto sulla sua ex moglie? L'amore tra Albano e Romina Power ha fatto sognare tutti gli italiani, grandi e piccini, per ben trent'anni. Un amore che sembrava essere solido e che ha portato ben quattro figli alla coppia, suggellato da un successo anche artistico dove la coppia Albano e Romina ha calcato i palcoscenici e italiani e oltre confine, con le loro canzoni, diventate oggi intramontabili. La favola Le strade dei due ex coniugi, però, hanno ormai preso direzioni opposte, Romina Power sembra essere singola e difende in modo serrato la sua privacy, per cui sulle sue vicende sentimentali trapelano poche notizie. Mentre Albano, ormai da anni, ha una relazione stabile con la showgirl Loredana Leciso, con la quale ha avuto altri due figli, Viasmine e Albano Junior. Nonostante tutto, però, Albano e Romina non smettono di volersi bene e parlare l'uno dell'altro. Albano torna a parlare di Romina Power ospite nello studio di Verissimo, il cantante Albano chiacchiera con la conduttrice Silvia Toffanin. Come non parlare della sua ex moglie Romina, con la quale ha condiviso un'abbondante fetta di vita. Trent'anni sono davvero tanti e così il tanto amato cantante di Cellino San Marco non si tira indietro di fronte al racconto di aneddoti e retroscena che hanno riguardato la sua vita sentimentale con la bellissima figlia di Tirone Tower. Albano, però, coglie l'occasione e decide di mettere a tacere le voci di corridoio su un presunto ritorno di fiamma con Romina Power, perché lo stesso cantante si dice felice con Loredana Leciso, che definisce una compagna straordinaria e ammette che con lei l'amore va a gonfie vele. Con Romina Power, allora, che rapporto c'è? Albano non lascia spazio ai dubbi, siamo come fratello e sorella. Cosa pensa Romina di Albano? Se Albano vede la sua ex moglie come una sorella, cosa invece prova Romina Power per il cantante? La cantante è emotivamente più legata anche al territorio, tanto che ha deciso di ritirarsi nella terra pugliese, sempre a Cellino San Marco, durante il periodo del lockdown. Nonostante Romina sia nata a Los Angeles, ormai è stata adottata dalla regione Puglia, dove ha vissuto per tutti e trent'anni del suo matrimonio con Albano per questo si sente pugliese, in parte. Anche Romina prova un grande affetto per l'ex marito ma, a differenza sua, la donna non si è mai più mostrata ufficialmente con un altro uomo ma, anzi, sul suo profilo social, qualche tempo fa, aveva condiviso un post sibilino, in cui c'era scritto, le persone vere spaventano. Per questo spesso rimangono sole. Perché sono sincere, oneste e quando voglio dire qualcosa lo dicono nel modo più vero che conoscono, sarà stata una frecciatina ad Albano. Per questo spesso rimangono, è stata una frecciatina ad Albano. Per questo spesso rimangono, è stata una frecciatina ad Albano.